Il Paradiso delle Signore, venerdì 17 maggio 2019 Il fatto che Luciano sia intervenuto personalmente nel suo piano lo espone a dei rischi elevatissimi, tanto che finisce in ospedale. Per fortuna Clelia e Carlo stanno bene e in più l'intervento del ragioniere ha generato una conseguenza positiva. Umberto è ormai messo sotto pressione da Luca e decide di confessare alla sua famiglia alcune vicende del passato che sinora ha tenuto loro nascosto. Tina non intende tornare sui suoi passi in merito a Sandro, anche se sta causando un grande dolore ad Agnese. Silvia capisce che dietro l'incidente accorso a Luciano possa esserci Clelia e questo sospetto la rattrissa moltissimo. La donna non vorrebbe perdere il marito. Nicoletta, diventata mamma da poco, è chiamata ad una decisione importante per la sua piccola bambina. Marta e Vittorio si trovano al Paradiso delle Signore, ancora per un incontro chiarificatore. Quando sono andati tutti via e trovano finalmente un pochino di pace, sentono il bisogno di abbracciarsi e di lasciarsi andare in un bacio molto appassionato.